Diamo la possibilità ai nostri bambini di esibirsi. I bambini della scuola Tizzolini, istituto comprensivo Villaggio Venestino, e presto io con un bel applauso! È una grande gioia perché questi bambini, nel giro di una settimana, hanno preparato questo balletto, che vuole essere proprio un invito alla fratellanza. Ci saranno dei gesti simbolici, proprio per dire che tutti, anche le altre classi, hanno fatto tanti lavori. Loro hanno voluto esprimere la gioia di essere fratelli, iniziando da piccoli, perché si formano da piccoli. Questi principi, questi valori, questa realtà bellissima che è sentirci tutti in verso, ma tutti importanti. Quindi si esibiranno le classi seconde del presso Tizzolini. Per iniziare facciamo di nuovo un bel applauso!